Un saluto dal Tg della mobilità con una parte delle scuole cittadine chiuse per le lezioni amministrative e il successivo spoglio dei voti. Oggi e domani le linee di bus S, i collegamenti speciali aggiuntivi pensati per studenti e pendolari, non saranno attive. Linee di bus S che torneranno in strada dunque a partire da mercoledì. E da oggi e sino al 29 di ottobre dal lunedì al venerdì in Prati sono previste delle votature su Viale delle Milizie tra Via Lepanto e Piazza delle Cinque Giornate. Per lasciare spazio all'intervento il tram 19 viene sostituito da bus tra Valle Giulia e Piazza Risorgimento. Inoltre tra le 7 e le Grazie a tutti.